Un eccezionale esemplare di piccione mutante ha recentemente catturato l'attenzione degli amanti degli animali sui social media. Un insolito video, condiviso su TikTok, ha raggiunto oltre 18 milioni di visualizzazioni, suscitando grande curiosità tra gli utenti che si sono chiesti se fosse vero. Nel video, pubblicato sul profilo TikTok, si può ammirare questa straordinaria creatura, col petto gonfio e delle zampe incredibilmente lunghe, che si muove avanti e indietro in una sorta di danza sincronizzata con la musica. Nonostante possa sembrare frutto di un esperimento genetico agli occhi meno esperti, in realtà si tratta di una razza specifica di piccione, il piccione inglese Pouter. La didascalia del video, successivamente condivisa anche su Twitter, ha continuato a stupire gli utenti, dichiarando, così come ci sono molte varietà di cani domestici, esistono piccioni addomesticati di tutte le forme e dimensioni, come questo splendido esemplare di piccione Pouter. Il piccione inglese Pouter è una razza domesticata originaria del Regno Unito, caratterizzata da un petto notevolmente sviluppato, zampe incredibilmente lunghe e piumaggio abbondante sulle zampe. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.